La festa dell'Epifania è come ogni anno, aggreghiamo tutte le nazionalità che sono presenti qui a Napoli per un incontro di fede, ma anche per un incontro umano di solidarietà, di apertura verso questi nostri fratelli che ormai fanno parte anche delle nostre comunità. Dare a loro forza, coraggio, speranza nel nome di quel Cristo che è venuto a portarci il suo amore, è venuto a caricarci della sua bontà tra noi, per vivere da cristiani, cioè da persone che si sentono fratelli e sorelle, che vogliono aiutarsi gli uni gli altri.